Dunque titolarissimi contro il Crotone che deve vincere a meno che la Spal non si faccia abbattere in casa dalla Sampdoria per rimanere in Serie A. Per introdurre invece Chievo Benevento abbiamo preparato un omaggio ai Sanniti. Vediamo. Non ha raccolto tanti punti il Benevento che prima di ritrovare fra i cadetti Salernitana e Avellino arbitrerà oggi alle 18 come anche il Napoli la retrocessione chiudendo la sua prima favola in Meneto sul campo del Chievo. La formazione Sannita ha fatto però il pieno di simpatia come ha sottolineato con Paolo Condò il primo quotidiano sportivo italiano. Per quel punto che non riusciva a trovare e che arrivò con un straordinario gol del portiere per un girona di ritorno competitivo dopo che il presidente Vigorito aveva generosamente rifatto la squadra nonostante le poche speranze di salvezza. Infine per la festa fatta la squadra retrocessa in occasione del congedo interno con vittoria contro il Genoa. Nessuna polemica nonostante le numerose docce scozzesi attraverso VAR, nessun rimprovero ai giocatori. Sulla maglia giallo-rossa andrebbe cucito lo scudetto della passione e del fair play.